Confesercenti traccia il bilancio di un anno di attività. Lei, Presidente, ha descritto questo anno di attività su quattro importanti direttrici. Lotta all'abusivismo, legalità, il discorso della grande distribuzione che affossa i piccoli commercianti, tasse e tariffe e poi, non ultimo, decoro urbano e sicurezza. Sì, questi sono stati i nostri punti focali su cui abbiamo operato in questo difficilissimo 2013. Devo sottolineare il fatto che le nostre operare in questo senso è stato molto difficile perché andare oggi ai tavoli dei comuni e portare le ragioni alle piccole e medie imprese e chiedere loro di abbattere questa eccessiva pressione fiscale, di diminuire le tariffe quando la tendenza invece è aumentarle, sentirsi dire che comunque loro non hanno soldi in qualche modo devono fare sempre i soliti tiritele, a noi è stato molto difficile invece far capire che far morire e far chiudere tutte le piccole e medie imprese significa anche fare un qualcosa che loro non vorrebbero, perlomeno a parole, perché plaudono sempre ai centri storici che devono essere ravvivati, devono essere vivi perché il nostro patrimonio sta là. Quindi non si può volere una cosa quando poi si attuano delle politiche che vanno completamente in senso contrario. Nel bilancio di questo 2013 Confesercenti si lascia alle spalle oltre 50 eventi in tutta la provincia partendo dalle zone chiave del centro storico della città per arrivare però anche ai punti più dislocati del territorio. Vi siete un po' sostituiti a un'attività di promozione del territorio che insomma competerebbe a qualcun altro? Sì, chiaramente la collaborazione delle amministrazioni locali c'è stata, noi in tal caso abbiamo sostituito le amministrazioni locali. Sono 4-5 eventi al mese insomma e poi soprattutto concentrati nel periodo estivo naturalmente quindi è un lavoro impegnativo. Ma lo facciamo volentieri perché le imprese ce lo chiedono ce lo chiedono sempre di più, ce lo chiedono in tutte le strade commerciali. È un modo per valorizzare queste realtà che sono un po' marginalizzate e troviamo un grande riscontro anche di cittadini che si riversano poi nelle strade. A proposito di inversione di tendenza vi aspettate che nel 2014 ci sia insomma un'inversione sul fronte dei consumi? Ma noi lo speriamo, non è facile che questo avvenga purtroppo perché le notizie non sono così positive insomma per una svuota occorrerebbe una ripresa dell'occupazione, una ripresa dell'occupazione non è facile che ci sia questi tassi di crescita, lo 0, qualcosa, perciò è difficile che il 2014 sia un anno forse ci sarà una caduta inferiore rispetto, anzi forse spero che non ci sia affatto ma certamente non c'è una crescita. Grazie